Va bene, mettetevi seduti. Allora ho tre punti all'ordine del giorno. Primo, ho una comunicazione per l'elefante. Francine, buon compleanno. Secondo, ci sono nuove reclute che dovrei presentarvi. Ma non ho intenzione di farlo perché non mi interessa. E infine, abbiamo 14 casi di mammiferi scomparsi. Tutti predatori, da un grande orso polare fino ad una minuscola lontra. E il municipio mi sta col fiato sul collo affinché li trovi. Questa è la priorità numero uno.